Richiesta di chiarimenti del Partito della Rifondazione Comunista di Favara al Sindaco Rosario Manganella sulla effettiva data di consegna dei 59 alloggi popolari di contrada a Piana dei Peri. Per gli esponenti politici della locale sezione del circolo Antonio Lombardo, le lungaggini tecniche e burocratiche non possono più essere attese dai cittadini assegnatari che aspettano la casa da oltre 15 anni. Il Sindaco, si legge in una nota del partito, dica chiaramente se le case popolari potranno o meno essere consegnate entro il mese di settembre.